Ciao e oggi sono qui con il mio fratellino. Ciao, saluta patata. Aspetta, hai capito che mi coprono gli occhi? Non lo sappiamo. Ma fino tanto piccolino, siamo nella nostra camera, come vedete, cioè nella camera dei nostri genitori. E praticamente stavamo guardando sul mio telefono i dinosauri. E qui è nel letto. Comunque, niente, abbiamo detto allora, perché non fare un video? Dinosauro, dinosauro! Abbiamo pensato questo. Quindi noi oggi dovremo stare qui per tutta l'ore, per 24 ore. E praticamente io sono così grande. Io e T-Rex vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 C'è un gigantolo.